Ciao ragazzi, oggi facciamo la prova candelette. Come vedete, sono stati collegati ai poli della batteria i cavi per la prova. Vediamo, vedete lì ci sono le tre candelette che ho già testato. Adesso andiamo a testare l'ultima candeletta. Quindi, prendiamo la massa nera e andiamo a massa. Queste sono candelette, corde, posizioniamo la massa, ecco qua. Andiamo a collegare il positivo, l'alimentazione, vediamo se si accende. Guardate come la nostra candeletta, la candescenza diventa bella rovente dalla base verso l'alto. Quindi è una resistenza funzionante. Bene, alla prossima.